Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è appena andato via dalla piazza 6 Aprile della Scuola Ispettore e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila. Mattarella che oggi ha partecipato in una scuola davvero vestita a festa al giuramento di 1175 allievi marescialli. Mattarella per la settima volta in città, la seconda in questa scuola, già era stato ospite nel 2017. Il Capo dello Stato, seppur non facendo un discorso ufficiale, ha dimostrato ancora una volta in questo modo con la sua presenza l'attaccamento alla città. Arrivato poco prima delle 16, ha passato il resegna agli schieramenti di finanzieri prima di prendere posto sul palco vicino alle autorità. Il primo che ha salutato il Presidente è stato il Tenente Colonnello dell'Esercito Gianfranco Paglia, rimasto gravemente ferito a Mogadiscio nel 1993 e insegnito dall'ora della medaglia d'oro al valore militare. Tra le autorità presenti il Ministro Piantedosi, il Vice Presidente del Senato Gasparri, il Vice Ministro dell'Economia Leo, il Sottosegretario della Cultura Vittorio Sgarbi. La bandiera della Guardia di Finanza già nel 2009 aveva ottenuto una medaglia concessa dal Presidente della Repubblica proprio per l'azione importante svolta dalla scuola nel 2009 nell'immediato post-sisma, quando è divenuta davvero il punto di riferimento della città dell'Aquila ospitando diversi servizi. Il comandante della scuola Zaccagnini ha ringraziato Mattarella per la sua presenza che ha conferito lustro alla cerimonia. Sono 30 anni che la scuola vive in città e Zaccagnini ha ringraziato la popolazione per l'accoglienza. Ha detto poi ragazzi siate orgogliosi di appartenere alla Guardia di Finanza, siate operatori di legalità. Cariche di significato le parole del Tenente Colonnello Paglia, oggi vi cambia la vita, giurare fedeltà alla Repubblica è una cosa importante. Ha detto siete voi che avete scelto di servire il vostro paese, lo si può fare in un solo modo con onestà. Non sarà facile ma come dico sempre ha detto Paglia, da 30 anni a questa parte per chi decide di indossare l'uniforme non fa differenza se si va in giro con la carrozzina o con le proprie gambe. Ciò che conta è andare in giro a testa alta. Il comandante poi ha letto la formula e quello è stato il momento più significativo di giuramento. Ha risuonato in piazza 6 aprile il grido degli allievi marescialli, lo giuro. E Mattarella tra l'altro ha conferito pure alla bandiera della squadra un'ulteriore medaglia per le attività formative che svolge. Anche le parole del comandante nazionale Zafarana, cariche di significato, ha parlato di un dono magnifico. La presenza di Mattarella per il centesimo anniversario del corpo e per gli allievi stessi, parole speciali anche per l'Aquila, per la città e la sua gente. Che vivono, ha detto, in comunione spirituale con la guardia di finanza per Zafarana. Tra l'altro è l'ultima partecipazione ad un evento prima del commiato dal corpo. L'ultimo a parlare è stato il vice ministro Leo. Mattarella ha poi ricevuto gli ultimi onori ed è ripartito subito alla volta di Roma.